Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video su Kingdom, siamo tornati, siamo qui che stiamo costruendo le nostre difese, sta diventando la notte, stiamo potenziando le nostre mura interne, non ci dovrebbe essere nessun problema, però per precauzione noi miglioriamo sempre le nostre mura. Il nostro passo è di migliorare sempre le nostre difese, anche perché è importante avere una potenza anche in difesa, meglio essere protetti anche dietro, che sono avanti, quindi sono in attacco. Ma io sono protetti anche in difesa, uuuuuh, aiuto, aiuto, cazzo, cazzo, andiamo penso, Ah, sono un deficiente... Mannaggia... Eh, non ho cancamato male, non dovevo... Non dovevo fare subito quel muro così, senza avere delle adeguate difese. Difese, eh, abbiamo sbagliato, ho sbagliato, sbagliato, però almeno ne avremo i nostri quattro arcieri, questo è molto importante. Abbiamo presso anche i costruttori, però, quindi abbiamo presso anche la catapunta. Mmm... Non va bene. Angegno è attaccato anche qui. Mmm... Interessante. Sto cavallo, uno scrausa. dobbiamo migliorare assolutamente quel muro dobbiamo perché è doppio altrimenti non ha senso mi prende tutte e quattro gli accieri se non abbiamo le difese da mie monete a una sola basta vabbè ho capito però c'è più un mendo di mia nonna ecco appunto muoviti ok ok molto bene perfetto abbiamo regolato da tante due persone possiamo tornare indietro speriamo di avere qualche moneta in più così ci faremo un altro costruttore anzi no due costruttori e ci facciamo guardare la vita questo santuario questo spawn gli nemici dovrà scomparire per sempre per sempre da una faccia ecco gli agitatori di braccia torniamo e vediamo un po' da questo lato cosa possiamo fare prendiamo le nostre monete dei nostri contadini prendiamo le altre monete che stanno qua le nostre monete bastanti costruttori di braccia benissimo lo posto abbiamo un bocchi che bello che bello che bello penso che questo sarà l'ultimo no il penultimo giorno, ok ah, bene, ok altre due monete ho il sacco qua che è gonfio mostro ok, accendiamo una torcia qui, perfetto e adesso aspettiamo una notte vediamo un po' di vedi che sei nemici come mi scafono mi uccidiamo male nessuno? 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 nessuno a destra attenzione aspettavo qualcuno? qualcosa? niente ok meglio per noi meglio per noi la bellissima è il giorno 19 è il giorno 19 io non posso io non posso murrani perché significhe che potrebbero spawnare anche di mattina per insomma che non è attivo quindi non lo posso bastare aspettando un po' vediamo adesso adesso eh no non si guarda e che faccio con queste punette questo è un bel video piano facciamo anche qui c'è una vera moneta, perfetto perfetto giochiamo anche qui, ho quattro martelli ma non viene nessuno facciamo un altro artico qua, anzi ho due e un'altra faccia ho un assedio bene ragazzi abbiamo vinto questo assedio quindi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto in caso vi sia piaciuto mettete un mi piace commentate e ci vediamo su un prossimo video ciao ragazzi